Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video di calcio a mercato dedicato al Sassuolo e all'acquisto di Samuele Mulattieri calciatore che è arrivato nell'affare Frattesi, in questo video vi vado a dire qual è la formula reale con cui il giocatore si è trasferito al Sassuolo e quelle che sono le sue caratteristiche, quindi quello che ha dimostrato soprattutto nell'ultimo anno in Serie B con la maglia del Frosinone dove può giocare nello scacchiere tattico di Dionisi, che cosa può dare al Sassuolo se è un colpo futuribile per la squadra nero-verde insomma tutto quello che c'è da dire dal punto di vista economico, tecnico e tattico l'analisi si concluderà con il solito voto da 0 a 10 che va a sintetizzare l'operazione ma questo voto ovviamente lo prenderò in considerazione sia dal punto di vista del Sassuolo che dal punto di vista dell'Inter che ha ceduto il calciatore perché è un'operazione interna al nostro campionato quindi la valuto da entrambe le parti e poi una chicca fantacalcistica per gli appassionati di questo gioco allora cominciamo con la formula, il giocatore arriva a titolo definitivo dall'Inter nell'affare Frattesi trovate sul canale il video dedicato a Frattesi e il giocatore praticamente Frattesi si è trasferito all'Inter in prestito oneroso con obbligo di riscatto l'onerosità del prestito l'Inter l'ha pagata col cartellino di Mulattieri quindi il Sassuolo non paga nulla per l'acquisto di Mulattieri ma arriva per il prestito di Frattesi non nel costo di Frattesi ma per il prestito poi la cifra stimata dell'onerosità del prestito e quindi anche che andrà a bilancio del Sassuolo per l'acquisto di Mulattieri è di 6 milioni, questo diciamo è a quanto sta a bilancio il calciatore però concretamente il Sassuolo non ha versato un euro e il giocatore ha firmato col Sassuolo un contratto quinquennale che lo lega alla squadra neroverde fino al 30 giugno 2028 è un classe 2000 se non sbaglio mi sembra 2000, si è un classe 2000 quindi va per i 23 anni e non sono riuscito a trovare dati relativi allo stipendio ma penso che saremo intorno ai 6-700 mila euro l'anno questo penso sia lo stipendio che percepirai ragazzo ok capitolo chiuso sull'operazione andiamo a parlare della carriera del giocatore giocatore che è cresciuto, è di Spezia quindi è cresciuto nelle giovanili dello Spezia ma si è trasferito nella primavera dell'Inter che poi lo ha prestato in Olanda in seconda divisione olandese dove con la maglia arancione del Volendam è esploso definitivamente il giocatore con il Volendam ha giocato titolare in un campionato professionistico anche se di seconda categoria nel 2019 se non erro, nel 2020 quindi aveva 20 anni, 19 anni e in quel campionato segnò ben 19 reti giocando titolare in una seconda divisione comunque di un campionato professionistico questo ovviamente ha lanciato il giocatore a livelli più alti e ha fatto anche puntare l'Inter su di lui che ovviamente l'ha prestato ad altre realtà calcistiche di seconda categoria ma del nostro campionato cioè di serie B e due anni fa ha giocato con la maglia del Crotone senza trovare grandissimi numeri perché ha segnato soltanto 6 gol in 28 partite mentre l'anno scorso con il prestito al Frosinone il giocatore si è confermato è arrivato in doppia cifra, ha segnato se non sbaglio 13 gol l'anno scorso ma quello che soprattutto ha fatto valorizzare il giocatore è che è diventato un riferimento offensivo della sua squadra non solo dal punto di vista realizzativo ma dal punto di vista proprio anche tattico e poi arriveremo all'analisi quindi dopo questa grande stagione al Frosinone in prestito il giocatore ovviamente è rientrato alla base all'Inter ed è stato girato quindi nell'affare Frattesi dove appunto il giocatore centrocampista del Sassuolo si è trasferito a Milano mentre Mulattieri si è trasferito a titolo definitivo al Sassuolo ovviamente non è stato riconfermato dal Frosinone perché la disponibilità economica del Frosinone è limitata e non ha potuto confermare il calciatore di cui l'Inter si voleva liberare a titolo definitivo andiamo alle caratteristiche del giocatore allora calciatore che è un centravanti o almeno nell'ultima stagione al Frosinone ha giocato come centravanti ma che in realtà ha le capacità per giocare in tutti i ruoli dell'attacco compreso il trequartista barra la seconda punta è destro di piede e quando gioca esterno predilige giocare sulla fascia destra quindi non è uno di quegli esterni che preferisce giocare a piede invertito tant'è che se vi andate a vedere su SofaScore che è il sito che io uso come riferimento per andare a vedere le statistiche dei calciatori la sua hitmap della stagione del Frosinone potrete vedere che il giocatore calpesta molto spesso la zona del campo della trequarti molto più orientata verso la fascia destra piuttosto che la fascia sinistra nonostante fosse schierato come centravanti del Frosinone quindi è un giocatore che spazia su tutto il fronte è un po' la sua dote principale perché è un giocatore ben dotato tecnicamente ha un bel controllo palla, sa difendere bene il pallone ma soprattutto, e c'è una statistica che lo conferma è molto bravo nell'assistenza ai compagni è molto bravo nel distribuire il pallone perché se andate a vedere la sua precisione nei passaggi nella metà campo avversaria è del 75% quindi è un giocatore che sbaglia un passaggio su 4 nella metà campo avversaria e giocando in zona trequarti significa che quando osa quando cerca la giocata risolutiva spesso gli viene vuol dire questo quindi è un calciatore che se vogliamo confrontarlo con un giocatore che ha giocato in Serie A l'anno scorso è simile per quanto mi riguarda Cambiaghi che ha giocato con la maglia del Lempo l'anno scorso e che ora è rientrato alla base cioè all'Atalanta Cambiaghi gioca dalla parte opposta anche lui è un attaccante un po' polivalente che però se deve decentrarsi Cambiaghi tende a decentrarsi sulla parte sinistra del campo mentre Mulattieri sulla parte destra nonostante il piede preferito sia lo stesso il destro per entrambi però sono due calciatori entrambi che amano arretrare il proprio raggio d'azione per venire incontro al centro campo per far salire la squadra per salire con il pallone tra i piedi o distribuendolo dialogando con i compagni sono giocatori tecnici sono giocatori che si inseriscono bene negli spazi sono attaccanti completi che non hanno magari lo strapotere fisico che può essere richiesto ai centravanti puri ma che sfruttano una fisicità non imponente a favore del proprio dinamismo e miscelando questo dinamismo atletico con l'intelligenza tattica e la qualità tecnica viene fuori un tuttocampista offensivo che ti apre spazi per i compagni ma che ti offre anche notevoli soluzioni offensive quindi è un giocatore, un jolly d'attacco che può tranquillamente fare molto comodo al Sassuolo che gioca con il 4-3-3 e occasionalmente con il 4-2-3-1 e su cui Pinamonti non è riuscito a emergere l'anno scorso tra l'altro altro giocatore preso dall'Inter dopo un prestito tra l'altro anche Pinamonti è esploso con la maglia del Frosinone però in Serie A e poi si è riconfermato all'Empoli ecco, Pinamonti non è riuscito secondo me a integrarsi bene nel Sassuolo proprio perché è troppo statico come giocatore è troppo un centravanti d'aria di rigore pura e invece il Sassuolo è una squadra più giochista più verticale più tecnica e quindi un giocatore come Pinamonti è stato un po' un pesce fuori d'acqua Mulattieri può essere quel calciatore che ricalca meglio lo stereotipo del centravanti del Sassuolo e che quindi può anche diventare un titolare della squadra e anzi, secondo me ai nastri di partenza parte come favorito per essere il titolare a maggior ragione se il Sassuolo dovesse continuare con il 4-3-3 può sembrare un paradosso però secondo me se il Sassuolo dovesse continuare con il 4-3-3 un calciatore così polivalente ti permette di favorire anche gli inserimenti del Mateus Cerriche del Torsvet dell'Oriente e del Berardi dagli esterni eccetera eccetera mentre invece se tu passi al 4-2-3-1 a quel punto ti fa più comodo il Bisontone in area e come trequartista Mulattieri potrebbe giocare come trequartista ma a quel punto avrebbe la concorrenza di Bairami quindi se il Sassuolo dovesse proseguire con il 4-3-3 io vedo Mulattieri leggermente avanti nelle gerarchie rispetto a Pinamonti anche perché Pinamonti ha avuto una stagione in cui potersi mettere in mostra e ha fallito miseramente quindi ci sta che Mulattieri possa partire un po' più avanti nelle gerarchie e si è presentato anche bene perché nella prima amichevole del Sassuolo vinta 22-0 una cosa del genere ha segnato già dei gol ha dimostrato di essere un giocatore già molto integrato a livello tattico e quindi anche perché nel Frosinone il Frosinone giocava il 4-3-3 quindi il modulo è lo stesso ed è un giocatore che secondo me può fare molto comodo alla causa del Sassuolo per quelle che sono le sue caratteristiche in cosa deve migliorare o quali sono i suoi principali difetti deve sicuramente migliorare nella pericolosità da fuori area perché è un calciatore che ama allontanarsi dall'area di rigore ma è poco pericoloso in prima persona in area di rigore è bravo nel servire compagni è bravo nell'aprire gli spazi ma se deve calciare lui da 25 metri non ha quella staffilata da fuori area che può risultare pericolosa e questo contro delle difese maggiormente attente come quelle del campionato di serie A rispetto a quelle del campionato di serie B o ancora di più a quelle del campionato di serie B olandese toglie un'alternativa quindi devi migliorare assolutamente la conclusione a fuori area così che il tuo marcatore abbia paura della conclusione quindi magari ti lascia più spazio col punto poi per il filtrante se invece sa che tu non cerchi mai la conclusione a fuori perché non ti fidi del tuo tiro diventa un pochino più prevedibile anche la manovra ma soprattutto deve migliorare nei contrasti è un giocatore dotato di un buon dribbling di una buona capacità di dribbling come dicevo prima ha un bel controllo palla è bravo tecnicamente è bravo con entrambi i piedi anche se ovviamente predilige il piede destro ma perde troppi contrasti fisicamente è più di un metro e ottante è 75-77 kg una cosa del genere quindi fisicamente non è leggerino però non vince contrasti evidentemente non è particolarmente convinto non è particolarmente tonico nei contrasti con gli avversari perché spesso li perde e li perde in tutte le zone del campo perché li perde nella sua metà campo così come nella metà campo avversaria ma soprattutto li perde anche aerei quindi non è il giocatore adatto su cui appoggiarsi in caso di difficoltà perché è un giocatore che perde molti duelli aerei e questo toglie la possibilità perché il centro avanti di un 4-3-3 molto spesso viene usato anche come riferimento dai difensori centrali quando sono in difficoltà nella manovra cioè magari un pressing alto degli avversari vengono usati come boa come riferimento te spari lungo su di loro e loro poi ti fanno la sponda e puoi giocare sulla seconda palla ecco Mulattieri non è bravo in questo fondamentale rispetto ad esempio a un Pinamonti che è molto più concreto sotto sto punto di vista quindi è diciamo che Mulattieri e Pinamonti hanno delle caratteristiche che fuse tra di loro generano scamacca ok cioè praticamente Sassuolo ha sostituito scamacca con due calciatori alternativi ma non complementari che hanno le capacità che aveva scamacca ma in due giocatori distinti Pinamonti ha la fisicità il tiro da fuori ha la presenza in area di rigore e la capacità di far salire la squadra mentre invece Mulattieri ha la capacità tecnica lo spirito giochista diciamo di aiutare i compagni e il dinamismo intorno all'area di rigore piuttosto che al suo interno sono due calciatori che che sono completamente diversi e che quindi ti danno delle alternative anche differenti all'interno della stessa partita anche per i compagni che devono giocare intorno a loro quindi l'Oriente i Berardi e il Matteo Cerrique il Torsvet il Maxime Lopez il Boloca che è arrivato adesso dal Frusinone questi calciatori qua ovviamente dovranno cambiare il loro modo di approcciarsi alla fase offensiva se il riferimento è Pinamonti o Mulattieri detto questo è un'operazione che io condivido da parte del Sassuolo anche perché evidentemente farsi dare tutto cash dall'Inter non era possibile e quindi è riuscito a vendere molto bene frattesi perché poi alla fine si parla di 30 milioni cash con bonus percentuali di rivendite e compagnia cantante per un ottimo centrocampista ma comunque che ha dato quello che doveva dare al Sassuolo e ci ha monetizzato il massimo e ci ha preso anche un calciatore che comunque può far molto bene nell'economia di gioco del Sassuolo che è giovane che è italiano e quindi è assolutamente un'operazione condivisibile da parte del Sassuolo non condivido invece appieno l'operazione dal punto di vista dell'Inter perché secondo me è stato venduto troppo di fretta troppo di fretta è un giocatore che aveva fatto molto bene in serie B e secondo me per poterlo valutare bene era necessario fare un prestito in serie A a una squadra di serie A che poteva essere una riconferma al Frosinone in prestito poteva essere un Empoli poteva essere una squadra di questo tipo che potesse dargli continuità a un verona che potesse farlo giocare con continuità nella massima serie così tu potevi valutarlo e perché no anche confermarlo in rosa al posto magari di un Correa come seconda punta che è più giovane ha più fame sicuramente di farsi valere in campo e probabilmente anche più forte di Correa quindi ed è sicuramente molto più economico perché poi anche quello è un aspetto che anche le big devono guardare non puoi avere sempre riserve da 4 milioni di stipendi ogni tanto conviene anche avere calciatori un po' più economici all'interno della rosa ci sta che i titolari abbiano siano costosi ma magari le riserve è giusto che siano un pochino più ponderate a livello di investimento economico ecco che dico secondo me l'Inted mulatteri se ne è liberata purtroppo frettolosamente e poi forse non ha quella cioè non ha quel futuro così roseo da dire può fare un'alternativa all'Inter forse non ha un futuro così roseo però prendendo ad esempio il calciatore che gli somiglia molto secondo me che è Cambiaghi e Cambiaghi aveva fatto molto bene al Pordenone in Serie B gli è stata data dall'Atalanta una chance in Serie A all'Empoli il giocatore ha dimostrato soprattutto nel giorno di ritorno di essere molto forte per il nostro campionato e quindi adesso torna alla casa madre torna all'Atalanta come un'opportunità per l'Atalanta come un giocatore che può essere tranquillamente schierato che può fare le rotazioni con le sottopunte di Gasperini e un mulattieri secondo me sarebbe stato doveroso fargli fare un prestito in Serie A e poi valutarlo così è stato acceduto un po' troppo frettolosamente e secondo me l'Inter rischia di mangiarsi le mani non tanto dal punto di vista tecnico perché probabilmente ribadisco non era un giocatore dal livello Inter ma dal punto di vista economico sì perché è un calciatore che se tu gli facevi fare un anno di Serie A come hai fatto fare con Pinamonti magari lo vendevi a 15-20 milioni invece che a 6 questo almeno è il mio parere poi ovviamente lo dirà il campo con la maglia del Sassuolo quindi che voto vado a dare a questa operazione dal punto di vista del Sassuolo e dal punto di vista dell'Inter per me Sassuolo ha fatto un'operazione da 8 perché si è portato a casa un prospetto che non è più giovanissimo ma che ha fatto tutta la gavetta quindi si è istruito nelle giovani dell'Inter poi ha fatto il primo passo all'estero poi ha fatto due campionati di Serie B in crescendo quindi il percorso è quello giusto magari non è più giovanissimo perché comunque ha 23 anni ma ha fatto il percorso giusto quindi è comunque un giocatore in ascesa lo paga nulla perché alla fine nell'affare frattesi è stato messo lì come quando prendi la scatoletta di tonno al supermercato 6 scatolette di tonno 5 le paghi 1 è omaggio ecco Mulattieri è arrivato come l'omaggio dell'Inter non è stato pagato quindi a livello economico è un'operazione impeccabile è un contratto lungo che comunque ti garantisce di avere potere anche contrattuale sul giocatore ed è un giocatore che per caratteristiche secondo me si sposa bene nel sistema di gioco di Dionisi e del Sassuolo quindi per me è un 8 l'Inter invece per me ha fatto un'operazione da 5 meno perché come ho detto l'ha venduto troppo frettolosamente per 6 milioni perché poi è stato valutato così probabilmente avrei o ceduto qualcun altro oppure avrei dato questi 6 milioni al Sassuolo di differenza è difficile trattare col Sassuolo perché Carnevale è uno che non si fa a prendere per il collo da nessuno però ecco magari con un dilazionamento un pochino più più esasperato del pagamento come è sempre stato fatto il Sassuolo è una squadra sana economicamente non ha bisogno di avere tutti i soldi subito si poteva dilazionare il pagamento ed evitare di perdere un calciatore promettente in ascesa per così poco secondo me l'Inter ha fatto un errore di valutazione su Mulattieri quindi l'operazione in uscita dell'Inter per me da 5 meno al fantacalcio il giocatore secondo me è consigliato è un'operazione interessante è una scommessa ovviamente poi bisognerà vedere come sarà listato nel mantra sicuramente nel classico sarà listato attaccante ma nel mantra potrebbe essere listato anche trequartista esterno bisognerà vedere potrebbe essere anche un bel colpo d'utile diciamo per quelli che giocano col mantra ma a prescindere dal mantra classico secondo me è una scommessa intrigante perché il tasso di titolarità può essere sorprendentemente alto vista la stagione fallimentare di Pinamonti potrebbe anche diventare titolare fin da subito ed è un calciatore che secondo me ti può portare una doppia cifra tra gol e assist questo ovviamente non lo rende un terzo slot se giocate col tridente però un quarto quinto come scommessa anche su cui investire un po' non necessariamente da prendere a uno ma anche un giocatore su cui si può spendere parte del budget secondo me è una scommessa invitante da cui non ti devi aspettare magari l'esplosione da bomber perché non credo abbia i numeri per poter fare 16-17 gol in serie A però è un giocatore che può arrivare a 8-9-10 con altrettanti assist anche perché il Sassuolo è una squadra molto offensiva a fianco calciatori come Berardi come l'Oriente come Matteo Cerriche che attaccano molto che si propongono anche molto per cui Mulattieri può tranquillamente fare bella figura nel Sassuolo quindi è una scommessa intrigante che non bisogna strapagare chiaramente ma visto che arriva un po' in sordina al Sassuolo c'è anche la possibilità di pagarlo meno di quanto realmente valga secondo me quindi io ve lo consiglio al fantacalcio e ovviamente non come titolare perché il tasso di titolarità rischia di essere sorprendentemente alto ma rischia potrebbe anche partire in panchina quindi averlo come nell'11 titolare del vostro fantacalcio della vostra rosa del fantacalcio può essere pericoloso ma come alternativa ci sta soprattutto se lo prendete in coppia magari con Pinamonti può essere una bella coppia da fare al fantacalcio anche se io non sono un grande amante delle coppie perché sono sempre difficili da gestire e perché poi magari è quello che entra dalla panchina che fa gol e non quelle parti titolare è sempre difficile io non ho mai fatto una coppia in vita mia al fantacalcio mai quindi sono contrario a questo sistema ma tanti la usano quelli che magari hanno le sostituzioni che non permettono il cambio modulo quelli che hanno un fantacalcio molto vincolante sotto questo punto di vista la coppia a volte è necessaria e la coppia Pinamonti-Mulattieri può essere una coppia interessante il mio video si conclude qua vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate se siete d'accordo o non siete d'accordo volete dire la vostra qualsiasi cosa scrivete nei commenti io leggo e rispondo sempre a tutti iscrivetevi al canale se non lo siete per supportarmi se volete altri video di questo tipo il video su Mulattieri mi era stato specificatamente chiesto da un utente quindi l'ho portato anche molto volentieri potete iscrivermi anche in privato su Instagram o su Telegram vi lascio il link ai miei due profili in descrizione noi ci vediamo ai prossimi video dedicati agli altri colpi di mercato della Serie A ma anche ai fantamercati il prossimo che porterò sarà quello del Lecce ma arriverà al turno anche di quello del Sassuolo e anche di quello dell'Inter ovviamente quindi ci vediamo ai prossimi video un caro saluto a tutti ciao